Uno spettacolo unico, uno spettacolo di ricerca, soprattutto per dimostrare quanto la creatività possa essere fervida anche con l'ecosostenibilità, con il riuso, con il riciclo, con tutto quello che sarà il futuro della nostra moda, del made in Italy. È solo la fantasia a limitare la possibilità di utilizzare la gomma riciclata e quello che stiamo per vivere questa sera è proprio l'esplosione della fantasia nella sua accezione più pura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché favole di moda? Perché la moda è favolosa. Perché le fiabe sono favolose. E perché in un momento come questo bisogna rivolgersi proprio alla bellezza, alle fiabe, ai sogni e recuperare tutto ciò che stiamo perdendo e abbiamo perduto.